Quando esce 1984 Orwell viene considerato quasi un autore di fantascienza perché il mondo che lui prefigura diviso in tre superstati con un grande fratello che ci controlla tutti con delle telecamere nascoste sembra quasi impossibile. In realtà Orwell non soltanto per il corso di tempi non soltanto è stato profetico ma ha immaginato una realtà che è meno pervasiva di quella che poi si è verificata. Oggi noi siamo controllati molto più che da una telecamera fissa quale immaginava Orwell. Noi siamo tutti profilati attraverso la nostra attività di naviganti sul web, sanno tutto di noi, dei nostri gusti, di cosa stiamo vedendo, di cosa stiamo guardando, di che cosa potremo comprare. E' delle ultime settimane la notizia che anche le conversazioni telefoniche, i messaggi sono in qualche modo tutte controllate e vulnerabili attraverso virus che chiunque ci può mandare. Ci sono stati scandali per tante elezioni sparse per il mondo, fake news che hanno condizionato il voto, sanno a seconda di quello che noi guardiamo sul web che cosa potremmo votare e orientano le nostre scelte. E' quindi un mondo quello attuale che dà un'illusione di libertà quale mai l'abbiamo vissuta ma che è forse il mondo in cui è più invadente, più invasivo il controllo sulla coscienza, sulla vita di ciascuno di noi. Orwell è stato quindi più che profetico ed è stato anche un uomo irriverente che non ha mai avuto timore di denunciare tutti i poteri. In un altro libro, La fattoria degli animali, denunciò anche quello comunista dopo aver denunciato quelli di destra. Quindi è un autore che andrebbe riletto e fatto leggere nelle scuole molto più di quanto non si faccia in realtà.